E' la volta del Salmo 33. Anche questa settimana c'è un aspetto spirituale importantissimo che ci riguarda. Tutti questi contributi dei Salmi fanno l'uomo nuovo. Parliamo adesso di questo Salmo che è un Salmo di lode, è un invito a lodare Dio in un modo nuovo. Che significa in un modo nuovo? Occorre una rivoluzione dentro di noi, avere il coraggio di essere disponibili a mettere in discussione vecchi schemi, vecchi pensieri, vecchi modi di fare per poter sostituire a vecchi pensieri i nuovi pensieri secondo Dio, come dice San Paolo, nella lettera agli Efesini al capitolo 4, versetto 17, parla della necessità di rivestire l'uomo nuovo e dice testualmente trasformatevi nello spirito della vostra mente e rivestite l'uomo nuovo. Lettera agli Efesini 4, 17. Ne parla San Paolo di questa nuova via fondamentale se uno vuole essere vero cristiano e non una persona religiosa come ce ne sono tante nel mondo, come da che mondo è mondo. L'uomo vedendo la natura dice ma assiste a una mano superiore. Qui ci invita ad entrare nelle dimensioni e nelle profondità di Dio. Rivestitevi nello spirito della vostra mente. Trasformatevi nei pensieri della vostra mente. Ho parlato di queste due dimensioni che sono in noi che è lo spirito, l'anima e il corpo. La differenza è che il corpo è temporaneo, la nostra anima, il nostro spirito è eterno e questo non fa la differenza. nella nostra società le persone non hanno fatto una differenza sostanziale fra il corpo e l'anima, fra i pensieri e lo spirito. I pensieri sono un'entità materiale. L'errore che si fa normalmente invece è identificarsi con i pensieri. Ti passa qualunque pensiero della mente e quello sei tu. Ma non è così. I pensieri devono essere osservati dallo spirito. Solo così si può rivestire l'uomo nuovo. I pensieri non possono andare dove vogliono loro. Governati da schemi del passato, del presente, delle paure, del contesto sociale in cui siamo vissuto, del contesto familiare. Sono condizionati se uno li lascia a briglia sciolte. Ma qui parliamo di pensieri osservati. Per poter essere gli osservatori del proprio pensiero occorre essere consapevoli della propria anima, del proprio spirito. non a caso San Paolo dice trasformatevi nello spirito della vostra mente. Non ha detto la mente, ma ha premesso lo spirito della vostra mente, cioè lo spirito che guida la mente. Avere chiaro questo è fondamentale perché c'è una grande confusione. Nel mondo la maggior parte delle persone identifica se stesso con il corpo. È sbagliato. Noi non siamo il corpo. Noi siamo spirito incarnato in questo corpo temporaneo. Spiriti eterni incarnati in un corpo temporaneo. Tu non sei il tuo corpo, ma sei uno spirito che deve governare il tuo corpo. Fare queste differenze è fondamentale perché è importante osservare i pensieri con l'anima aperta a Dio, naturalmente, con uno spirito aperto a Dio. In questo modo possono i pensieri osservati e gli schemi osservati possono cambiare. Qualcuno dice io combatto i pensieri? No, non li combattere. Io combatto, non combattere. Devi semplicemente osservare, cioè dire il tuo spirito consapevolmente osserva i pensieri. E se tu osservi il pensiero non sei più il pensiero, ma l'osservatore, lo spirito tuo osservatore dei pensieri. Molte persone ti si distruggono con i propri pensieri, si distruggono pensieri negativi, depressioni, pensieri ripetitivi, schiavi, schiavi. E non si sa il motivo. Perché? Perché non si è scoperto questa dimensione spirituale. L'uomo nuovo è consapevole della propria dimensione spirituale ed eterna. È consapevole del proprio corpo e dei propri pensieri. Solo con questa consapevolezza i pensieri cambiano. Gli schemi mentali osservati cambiano, decadono senza che tu te ne accorgi. Ma qualcuno dice, ma scusa, allora che pensieri dobbiamo fare? In che senso? Che pensieri? risponde Paolo a questo. Nella lettera ai Filippesi al capitolo 4 dal versetto 6 al 9 dice tutto quello che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, quello che è virtù e merita lode, tutto questo sia oggetto dei vostri pensieri. Vedete come Paolo risponde alle nostre domande. A proposito dello spirito e del corpo, perché forse non ci abbiamo mai pensato troppo a queste cose, si vive così in modo inconsapevole, ma ne parla Gesù quando dice, ma non temete chi uccide il corpo e non può niente all'anima. Quindi vedete, questa distinzione c'è, ne parla Gesù, ne parla San Paolo quando parla di uomo vecchio e uomo nuovo. L'uomo vecchio è l'uomo della carne, l'uomo governato dai pensieri del mondo, così la pensano tutte e così la penso anch'io. L'uomo vecchio con schemi del mondo, come la pensa il telegiornale, la penso anche io. L'uomo vecchio è perfettamente adeguato al mondo, mentre invece l'uomo nuovo è l'uomo che si eleva. L'uomo di un mondo nuovo, di una nuova generazione. Venga il tuo regno, che è un regno eterno di pace, di serenità, di giustizia. Questo è quello che dice il versetto 1 del Salmo 33, risultate giusti nel Signore, per gli uomini retti è bella la lode. Gli uomini retti sono gli uomini nuovi, allora tu puoi lodare, ma lodare il Signore con la cetra, con l'arpa a dieci corde, a Lui cantate, poi nel versetto 3 dice cantate al Signore un canto nuovo. Parla qui di strumenti musicali, ma guardate che dietro ogni parola della Bibbia ci sono delle radici profondissime, spirituali, delle profondità enormi. Questi strumenti che cosa sono? Io suono la chitarra e la chitarra deve essere accordata. Ogni nota, ogni corda deve essere in sintonia con l'altra per poter fare un accordo, un'armonia, un canto, un canto. L'arpa a dieci corde, la mia chitarra ce la sei, quindi occorre aggiungere altre note celestiali forse per poter entrare in questa armonia divina. Dice il versetto 4 perché retta è la parola del Signore. Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, la terra, la natura, tutto quello che vedi è fatto dalla parola del Signore ed è un'armonia meravigliosa. L'esempio delle corde della chitarra, qui parla dell'arpa a dieci corde. Se noi guardiamo la natura ma si vede, ma si vede da tutte le parti, qualunque cosa guardi c'è armonia. Invece di guardare fuori di te dove c'è un'armonia meravigliosa nella terra, un equilibrio perfetto ecologico dove tutto è perfetto, ma guarda il tuo corpo che ha studiato anatomia si accorge che il corpo è di una complessità armonica infinita. Quando noi siamo stati formati nel grembo materno, miliardi di processi biologici e in armonia fra di loro componevano e costruivano quello che adesso è il mio corpo in un'armonia stupenda. Ma se noi vediamo l'universo c'è un'armonia stupenda dove anche le cose che ci sembravano i mostri dell'universo che sono i buchi neri, ma che senza buco nero la nostra galassia non poteva stare unita, si sarebbero disperse le stelle, ma benedetto buco nero, senza il buco nero noi non c'eravamo. Eppure sono stati descritti come dei mostri. Vi voglio dire tutto quello che vedi è armonia e non c'è niente di inutile. Mi ricordo le tonsille sono inutili, sono inutili e vanno tolte. Poi si è scoperto che le tonsille servono per fare una barriera batterica al corpo. Vi voglio dire che tutto è armonia, però questo creatore dell'armonia non viene riconosciuto, infatti il mondo non lo conosce. Dice se l'avete conosciuto non avrebbero crocifisso Gesù Cristo, ma tuttora Cristo viene crocifisso, viene ucciso tutte le volte che viene ucciso l'amore, il creatore della vita viene ucciso, ma noi sappiamo che Cristo è risorto, quindi la nostra speranza è viva. Ci sono due progetti diversi, l'armonia del corpo, della terra, l'equilibrio perfetto che c'è per la vita. Questo è il progetto di Dio, viene contrastato dal progetto dell'uomo che è opposto al progetto di Dio. Dice ma che teoria? No, è pratica. È pratica. Il mondo visto come un'armonia di vita per Dio è visto invece come un mezzo di sfruttamento per l'uomo, un mezzo di sfruttamento dell'uomo e della vita, l'interesse, lo sfruttamento indiscriminato, già ne abbiamo parlato tante volte di queste cose, come questo sta portando ai cambiamenti climatici devastanti, perché l'uomo ha perseguito il suo progetto, non il progetto armonico, meraviglioso, tutto finalizzato alla vita, alla pace, alla gioia. Retta è questa parola creatrice, è retta, ma tu lo puoi vedere anche dentro di te. Tutte le volte che tu entri in questa armonia divina, vedi che dentro di te c'è pace, c'è gioia, c'è amore. Nel versetto 5, egli ame la giustizia, il diritto e dell'amore del Signore piena la terra. Se noi avessimo questa sensibilità, se noi riconoscessimo dietro un'armonia che ti viene data, umanamente parlando, c'è dietro qualcuno che l'ha preparata con tant'amore, per questo è buono, un cibo preparato con amore. Si sente, si sente, si sente l'amore. Perché l'uomo non riconosce l'amore dietro questa armonia che sta dentro e sta fuori? Sono queste le condizioni necessarie per poter lodare Dio. Ma che cos'è la lode a Dio? Riconoscere che c'è l'amore dietro tutte queste cose. Solo così si può lodare, il simbolismo profondo dell'arpa e della cetra. Tu sei chiamato a suonare, ma dici, ma guarda, io non lo conosco la musica. No, tutte le volte che tu riconosci questa armonia, entri nella lode, è come se suonassi l'arpa a dieci corde e diventi un suonatore divino, se così possiamo dire. In versetto 7, come in un otre, raccoglie le acque del mare, qui dice le acque del mare. Quando la Bibbia parla di acque del mare si riferisce al Mar Rosso, al Mar Rosso che apre una via nelle acque, nell'impossibilità delle acque, nella schiavitù in cui l'uomo si è cacciato, si apre una strada nel mare per passare nel nuovo mondo, nella nuova terra, nella terra promessa, simbolicamente parlando. In Mar Rosso l'Egitto rappresenta la schiavitù, il vecchio uomo, la vecchia terra. La terra promessa rappresenta invece la Gerusalemme celeste, il nuovo mondo, l'uomo nuovo, perché questo è il progetto di Dio. Fare uscire l'umanità dall'Egitto delle proprie schiavitù mentali, degli propri falsi schemi di potere, per poter entrare nella libertà dei figli di Dio. Il versetto 9 dice perché egli parlò e tutto fu creato, dalla parola del Signore furono, l'abbiamo detto questo, ma il disegno del Signore sussiste per sempre, i progetti del suo cuore per tutte le generazioni. Ecco perché il Signore vuole farci uscire dalla schiavitù d'Egitto. E poi il versetto 12 dice Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che egli ha scelto come sua eredità. Questa è la nazione che indicherà in questo mondo così sbandato, che non sappiamo neanche dove stiamo andando con le guerre, i cambiamenti climatici, ci sarà questo nuovo popolo che indicherà al mondo la luce, la convivenza pacifica, che indicherà al mondo che solo l'amore vince, può vincere. Dice il versetto 13, il Signore guarda dal cielo e gli vede tutti gli uomini dal trono dove siede, dove abita, scruta tutti gli abitanti della terra. Versetto 15, lui che di ognuno ha plasmato il cuore e ne comprende le opere. Se noi avessimo la consapevolezza che il Signore ci conosce, ma ci conosce veramente, profondamente, più di quanto noi conosciamo noi stessi, comprende le tue sofferenze, le difficoltà che hai avuto nella tua vita, ti capisce perché ti ama. Se nel mondo succede quello che succede è perché l'uomo sta perseguendo il suo progetto, non il progetto di Dio, e sono due progetti contrastanti. E poi nel versetto 16 dice il re non si salva per un grande esercito, né un prode vince per il suo grande vigore. Versetto 17, un'illusione e il cavallo per la vittoria, e neppure un grande esercito può dare salvezza. Qui contesta la convinzione per cui più armi, più vittoria, più carrarmati, vittoria sicura. Allora la controparte dice più carrarmati voi, più missili noi per voi, più missili voi per noi, e allora noi ti prepariamo le bombette nucleare a portata limitata perché se tu hai missili noi, allora non c'erano né le bombe nucleare, né i cararmati, c'erano i cavalli per la vittoria, se tu avevi i cavalli. E qua in questo salmo dice guarda che il cavallo non serve per la vittoria, ma di che vittoria parli? Ma di che vittoria stai parlando? Della vittoria delle armi? Ma non porta da nessuna parte. Ma sedetevi, guardatevi negli occhi voi nemici, che vi accusate, vi odiate a vicende, fermatevi e dite dai forza, vediamo che possiamo fare. È possibile che non c'è un accordo fra di noi? Vediamo che cosa possiamo fare per evitare queste distruzioni di masse, la proliferazione di questi cavalli per la vittoria, di queste armi sempre più micidiali, pensando e illudendosi che tu puoi vincere. Cosa vincere? Se scoppia una guerra mondiale? Chi vince? Chi vince? Il Papa l'ha detto un sacco di volte, ma qualunque persona di buonsenso lo dice e ci stanno portando verso questo. Il Signore sicuro vigilerà perché ha i Suoi disegni. E poi il versetto 18, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. Questo è il progetto d'amore che Dio ha verso di te, verso di me e verso l'umanità. Noi abbiamo anche la missione di portare il messaggio d'amore del nostro Creatore. E poi nel versetto 20, l'anima nostra attende il Signore. Egli è il nostro aiuto e il nostro scudo. In questo tempo più che mai noi eleviamo al Signore. Signore, ma veramente ti attendiamo. Sì tu, il nostro aiuto è lo scudo di questa meravigliosa creazione che hai fatto, di questo prodigio che siamo noi, che testimonia la Tua infinita intelligenza e nell'armonia il Tuo infinito amore. E poi il versetto 20, e in Lui giuisce il nostro cuore. Nel Suo santo nome noi confidiamo. Su di noi sia il Tuo amore, Signore, come da Te noi speriamo. Vedete, si conclude così con il versetto 21-22, si conclude questo meraviglioso salmo dell'uomo nuovo. E già questo salmo è un salmo nuovo, se così possiamo dire. Si conclude con questa grande lode, con questa grande gioia e con questa grande speranza. Uniti sempre nell'amore. Vi saluto e vi voglio bene.